Ciao, sono Serena Delecavio, ho 27 anni e sono un'attrice. Sono nata a Roma, ma ho vissuto ad Anzio e poi in Friuli Venezia Giulia per la maggior parte della mia vita. Infatti ho iniziato a formarmi a Udine, all'Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, dove ho frequentato il primo onno accademico, ma anche altri corsi sia all'interno dell'Accademia stessa che all'esterno. Quando sono venuta a Roma ho frequentato per un anno l'Action Pro e ho partecipato a diversi stage, soprattutto per quanto riguarda la commedia dell'arte. Nel 2017 ho iniziato a lavorare nell'ambito teatrale e attualmente faccio parte di una compagnia che si chiama La Quercia Incantata, con cui portiamo in scena commedia all'italiana soprattutto, e di una compagnia che si chiama Il Gabbiano Innamorato, con cui portiamo in scena spettacoli per bambini. A livello televisivo ho partecipato al programma Senso Comune, mentre a livello cinematografico ho partecipato ad un paio di cortometraggi. In scena ho parlato sia in romanesco, in napoletano e in veneto. Ovviamente però ho più dimestichezza col dialetto romanesco perché sono originaria appunto di Roma. In generale amo questo lavoro perché mi piace giocare, mi piace proprio fingere di essere qualcun altro. E quindi quando faccio una qualsiasi cosa, una qualsiasi parte, qualunque essa sia, riesco a divertirmi. E credo che quando un lavoro comunque riesce in qualche modo a divertirti, in qualche modo smette di essere un lavoro. Quindi per questo, ma anche perché ho la possibilità di conoscere più me nel corso della mia stessa vita. Perché ci sono alcune parti di me che nella mia vita quotidiana non mi servono, e quindi non accedo a queste parti di me in qualche modo, mentre attraverso la recitazione ovviamente sono obbligata ad andarci. e quindi anche un modo per conoscere me stessa in maniera un po' più profonda. E niente, questa è un po' di me, adesso vi faccio vedere i miei profili e le mie mani. E niente, spero di rivedervi presto e ciao a tutti!